Quasi una tonnellata di stupefacenti tra hashish e marijuana è stata sequestrata durante un'operazione condotta dalla DIA e dal reparto operativo aereo navale della Guardia di Finanza di Bari a largo di Monopoli. I militari hanno tratto in arresto due soggetti italiani alla guida di due imbarcazioni che stavano importando la droga dai Balcani. Le imbarcazioni che viaggiavano di notte a velocità sostenuta sono state segnalate come sospette nell'ambito di una missione di controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Le unità navali del Roan di Bari sono immediatamente intervenute riuscendo a intercettare a largo della città di Monopoli due semi cabinati di 7 metri, ciascuno dotato di un potente motore fuori bordo. Al termine dell'operazione sono stati sequestrati circa 900 kg di droga di cui 646 kg di marijuana e 250 di hashish che avrebbero fruttato all'organizzazione criminale un guadagno illecito di circa 10 milioni di euro. Il carico era suddiviso in 54 involucri ripartiti ognuno in confezioni da 2, 5 e 10 kg contrassegnati da sigle di diverso colore a seconda delle zone di produzione del tipo di sostanza stupefacente e destinatari in Italia.